Se vi trovate spesso in giro sapete benissimo quali sono i problemi che si incontrano nel rimanere connessi quando ci si sposta. Gli hotspot che utilizzate sono davvero sicuri? Dovete pagare per collegare altri dispositivi con cui viaggiate? O magari siete vincolate a un solo collegamento via cavo quando vi trovate nella stanza di un hotel? Netgear conosce i problemi che dovete affrontare. Ecco perché vogliamo aiutarvi presentando il Netgear Track. È un router da viaggio e un range extender perfetto per chi è sempre in movimento. Con il Track potete collegare in modo sicuro tutti i vostri dispositivi Wi-Fi a qualsiasi hotspot pubblico, con il vostro proprio firewall che protegge le reti wireless. In questo modo non è più necessario pagare per collegare più di un dispositivo o preoccuparsi se qualcuno tenta di intercettare le vostre attività in rete. E siccome è la vostra personale connessione, i vostri dispositivi si collegano usando sempre i soliti login e password. In una stanza d'albergo si può trasformare una singola connessione via cavo in un sicuro e affidabile hotspot wireless per ogni dispositivo o estendere il segnale di un Wi-Fi esistente per essere sicuri di avere un robusto collegamento nella propria stanza. L'ingegnoso design portatile con la potente antenna esterna e la porta USB è tutto ciò di cui avete bisogno per un collegamento sicuro, semplice e veloce. Inoltre potete usare il track anche a casa perché funziona perfettamente come range standard della vostra rete Wi-Fi o come router compatto per le vostre connessioni via cavo. Ovunque vi porti la vita o il lavoro avrete il vostro Wi-Fi coperto con il Netgear Track. Grazie a tutti. Grazie a tutti.